E' stato dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato il ricorso dei residenti sull'ampliamento della discarica di Calucio, condannandoli al pagamento delle spese legali. La sentenza 785 del 2021, pubblicata proprio oggi, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza presentato dai residenti nella zona della discarica di Calucio, condannandoli di fatto al pagamento delle spese legali, non solo nei confronti della provincia di Pesero Urbino, ma anche dell'Assemblea territoriale d'ambito rifiuti dei comuni di Urbino e Rubania, dell'Unione Montana dell'Alta Valle del Metauro ed anche di Marche Multiservizi. I ricorrenti avevano lamentato di fatto la non ottemperanza della provincia alla precedente sentenza del Consiglio di Stato del novembre del 2018, che aveva annullato la delibera della giunta provinciale con cui veniva autorizzato il gestore Marche Multiservizi all'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi di Calucio di Urbino. Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato aveva indicato le linee guida da percorrere nel caso in cui si fosse dato nuovamente seguito all'istanza di ampliamento della discarica mediante rilascio di autorizzazione. Da qui la presentazione di un nuovo progetto da parte di Marche Multiservizi a cui la provincia ha rilasciato autorizzazione via e aia che ha superato positivamente il valio del Consiglio di Stato. La sentenza, ha evidenziato il presidente della provincia Paolini, ha confermato il giusto operato dell'amministrazione provinciale e la professionalità degli uffici in campo ambientale. Dopo i ringraziamenti di rito, Paolini ha anche aggiunto che tante polemiche sterili potevano essere evitate, sono servite, secondo il presidente della provincia, solo a creare incertezza e preoccupazione tra la popolazione.